Buongiorno, sono Mancini Roberto, geometra Mancini Roberto dell'impresa Inteko. Si sta occupando dei lavori di rifacimento della fognatura presente in via Giuseppe Brusa. La tecnologia che stiamo usando viene fatta una ricostruzione all'interno della condotta ovoidale in cemento attraverso il trascinamento di una guaina impregnata di resina, viene trainata all'interno della condotta, viene gonfiata per far prendere la forma originale e poi attraverso un treno luci lampade A2V viene fatta la catalisi, quindi l'indurimento della guaina. La guaina rindurita viene tagliata agli estremi e viene ripristinata a fine giornata il funzionamento della condotta fognaria. La guaina rindurita viene tagliata a fine giornata. La guaina rindurita viene tagliata a fine giornata. Volevo chiedere, tutti i vari allenciamenti come vengono eseguiti? Allora, vengono durante l'inserimento della guagna, vengono tappati e vengono controllati da autospurghi. Dopodiché, dopo l'inserimento e il taglio degli estremi, vengono riaperti dall'interno. Ovvero, entra una persona nella condotta e apre questi segni? Vengono, dato che la condotta lo permette, con tutti i crismi e i dpi per la sicurezza, l'uomo entra in condotta a riaprire l'allaccio. Va bene, la ringrazio. Grazie a voi. 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 Grazie a tutti.